Ciao, come stai? Bene, bene Mi fa molto piacere, dottor Leo Ma io le faccio subito due belle domandine su cose Lei è iscritto al mio canale con la campanellina attiva? Sì Grande Droppi sempre un bel like furbet sotto tutti i miei video? Assolutamente sì Ma che bellissima cosa A questo punto lei ha sbloccato questo meraviglioso negozio oggetti Le potrebbe interessare qualche cosina? Assolpino Gran Bretagna Eh, ma lei allora è un professionista di queste skin, dottor Leo Se lo faccia dire E mi sa tanto che te lo sei bello beccato questa skin Che tra l'altro è incredibile Ma come mai la versione maschile e non quella femminile? Perché mi piace più quella maschile Eccolo qui Anche con il suo backpack che è divino Subito il ballettin Mister Leo mi raccomando Ora vate a divertere con questa skin E continua sempre a guardare i miei video Ciao E mi raccomando solo e solamente se vi piacciono i miei video All'interno del negozio oggetti Il supporto ancora più bello, più fresco, più croccante Del centro Italia Only one code R4 score E amici miei siamo official tornati sul gioco di Fortnite Perché oggi andremo a vedere qualche glicettino davvero molto molto particolare Partiamo subito con il primo È la prima volta che ci provo Quindi speriamo ci riesce subito Dobbiamo andarci a nascondere davanti proprio questo mulinello Vediamo se funziona Olè Ci siamo Siamo sotto l'acqua Le sgomici miei Funziono alla perfezione Questo più che un glitch È un nascondio Magari dobbiamo fare qualche punto in arena Oppure stiamo scappando da qualche avversario O ci sta inseguendo uno squalo Bec Bec Aspetate Uno squalo non è esattamente il nascondio più adatto questo Però se dobbiamo farmare qualche punto in arena O comunque abbiamo un nemico alle calcagne Questo è il nascondio top of the pops Perché nessuno vi troverà mai Anzi c'è anche una sorta di pozza per i pesci Che è ottima per un nascondio davvero top Andiamo a vedere il secondo glicettino di oggi Siamo proprio qui a Castello Corallino Non so quanta gente ci scende effettivamente all'interno di questa mappa Comunque qui abbiamo questa roccia Questa spugna a forma di cervello Beh insomma è molto molto simile a un cervello Guardate che cosa succede se noi entriamo esattamente dentro È un nascondio top Nessuno ci potrà mai vedere I nostri avversari ovviamente avranno grandi difficoltà nel trovarci Addirittura credo che possiamo sparare all'interno di questa sorta di pietra Eh sì sì possiamo ufficialmente sparare No aspetta devo prendere un'arma Ok ho preso ufficialmente una pistolina Ma non riesco a vedere nulla Dobbiamo per forza alzarci Quindi non sarebbe un top nascondio Ok non è buono Non è tanto buono per sparare Però per nascondere anche in questo caso Scappare dai nostri avversari È il top Eh ma qui amici miei Qui amici miei Il livello si è alzato Il livello si sta alzando Perché questo non sarà semplicemente un glitch nascondino Ma sarà anche un luogo segreto all'interno della mappa Mi sono già fornito il nostro elicottero Guardate se snossiamo Andiamo qua sotto Et voilà Ditemi ora chi ci viene a trovare All'interno di questa sorta di grotta Dove era la grotta proprio prima Siamo entrati all'interno di questa mini caverna Che ora dovrebbe essere totalmente ricoperta d'acqua Però come vedete qua sotto non c'è acqua Quindi possiamo entrare tranquillamente E nasconderci dai nostri player avversari Oppure se vogliamo giocare a nascondino all'interno di una partita pubblica Lo possiamo benissimo fare Ora il problema è come possiamo uscire da questa parte della grotta Credo che ci basterà riutilizzare Signora aereo Non mi dire che non funzioni più Ok ah no ok 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 Entriamo e usciamo dall'aereo Ed ecco qui siamo usciti da questa sorta di canale di Suez All'interno di questo cilindro E amici miei amici miei Tenetevi pronti Perché se gli altri glitch nascondigliosi vi hanno emozionato Quello che vi faccio vedere ora è qualcosa di incredibile Ci troviamo all'interno di una qualsiasi cascata all'interno della mappa E guardate vado a costruire una pedana esattamente qui Quindi un piano sotto all'interno della cascata Io entro dentro Et voilà Siamo dentro la cascata Possiamo anche modificare la nostra struttura Così nessuno potrà mai trovarci Nessuno potrà mai vederci E vi dirò di più amici Vi voglio stupire Oggi vi voglio stupire Possiamo anche andare a sparare E quindi editare gli avversari O anche le strutture Per esempio Ok abbiamo preso quel container Che è un po' indistruttibile Mi sa tanto Però se colpiamo questa bandiera Eccola qui L'abbiamo totalmente disintegrata Questo per farvi vedere che possiamo tranquillamente sparare a qualsiasi cosa Anche ai player avversari E nessuno vedrà mai che siamo qui L'unico problemino è che Ok Non possiamo entrare tanto dentro Dobbiamo solamente stare un po' così ai margini Ovviamente questo glitch lo possiamo fare ovunque A qualsiasi cascata Anche questa per esempio Mi trovo in un'altra zona della mappa Perché vi voglio far vedere Un glitch vero e proprio Sono finiti tutti i vari nascondini Perché guardate qui che cosa abbiamo Questo terreno è un po' particolare Rispetto al solito terreno È tipo forato C'è tipo questa sorta di squarcio sul terreno Che ci dà la possibilità di andare a vedere Cosa succede sotto Fatemi vedere se continua Sì bello pulito Continua questo squarcio Gustoso Vediamo se anche qui c'è qualcosa Oh ma quanto è grande questo squarcio Continua continua Io butto giù tutto Voglio vedere assolutamente Anzi sono curioso anche di vedere Se noi spariamo Se i colpi passano da una parte all'altra Ok abbiamo appurato che finisce qui Comunque non male Fatemi vedere se riusciamo a vedere qualcosa Sì Vediamo esattamente la parte sotto Ma non credo se io sparo Che i colpi passano No non passano O forse sì Vediamo se sto sparando al terreno Come un babbeo Oppure sto hittando l'albero No credo che sto sparando come un babbeo Questo diciamo che è un glitch Utile se volete spiare i vostri avversari Sotto Rispetto a dove siete voi Esattamente in questo punto della mappa Uh guardate un bel lama gustoso Esattamente possiamo vedere tutto quello che succede all'interno di questa parte della mappa Non so se vi potrà essere utile Però questo è un vero e proprio glitch visivo Il mio pesce secco e io Abbiamo un lavoro molto difficile da spiegare Anche perché queste guardie aio ci stanno sparando Io lo chiamate aio un po' così in sardo Però sapete che insomma non si chiamano guardie aio Ma si chiamano guardie i o Penso Ok Va bene la mia pronuncia in inglese non è il top of the pops Comunque abbiamo raggiunto il nostro scopo Perché abbiamo rubato questi funghi che stavano proteggendo le guardie E ora dobbiamo andare all'interno della falegna meriana E la speranza che queste dannatissime guardie non ci killano prima Ma noi apriamo questo lama gustoso Ok Sono one hit Signore guardie Sto facendo un esperimento per la scienza Lama sbrigati ad aprirti Corri No fermi 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 Abbiamo preso delle giapperine Proprio quello che ci serviva Ok Ci vediamo alla falegna meria Ok ci siamo ci siamo L'abbiamo raggiunta Ora tutto quello che dobbiamo fare è trovare un veicolo Entrarci dentro Scambiarci Quindi andare dalla parte del passeggero E ora mangiamoci un bel funghetto Chissà di che gusto sarà questo Mega funghetto E gigante Amici miei Questo è un glitch eterno Per andare a trollare i vostri amici Infatti sarà molto semplice Vediamo se funziona anche con questi funghetti No Con il funghetto piccolino non funziona Ma con questi funghetti La soddisfazione è raddoppiata Ora vi voglio far vedere un glitch Un glitch che è qualcosa di assurdo Però per farlo ci dobbiamo mettere sulle tracce Il nostro Frank Mandarino Che come sappiamo bene sta girando per tutta la mappa E' disturbato Dottor Frank Si faccia vivo Che ne dobbiamo fare una bella sorpresina Guardalo il signor Frank ha chillato tutti quanti Ehi là non avevi considerato questo pesce secco furbino Olè Bye bye dottor Frank Per eseguire questo glitch Dobbiamo ovviamente killare il signor Frank Mandarino Ed impossessarci delle sue due armi ultra mitiche Perché vi voglio far vedere qualcosa Nella speranza che non l'hanno fissato Che riguarda proprio questa sfera gigante Sopra la nostra testa Che si chiama Nexus 0.0 Dobbiamo anche farci un po' di materiali Ma credo che ce la facciamo No dobbiamo farci un bel po' di materiali Io intanto inizio a buildare va Ecco ok diciamo che abbiamo un po' anticipato i tempi Perché questo glitch si dovrebbe fare Dal momento che siamo all'interno del cerchio della tempesta Perché una particolarità di questo punto 0 Oltre a essere una palla sospesa per area abbastanza inutile Perché per il momento non serve a nulla Ci da sia vita sia shield Quindi se andiamo a effettuare questo glitch Ora vediamo se funziona E poi vi spiego perché è un glitch eterno Perché è un glitch incredibile Che ci può dare la possibilità di fare Win royale infinite No ok No ok Meno male che l'abbiamo fatto Occhio Occhio ce ne vediamo Sì Occhio regà ma credo che funzioni ancora Non lo so Fatemi vedere Fatemi provare Non ho idea dove sia il punto 0 Dove ti avrà andato Signor punto Signor punto Ma dov'è No Occhio Occhio Usciamo Usciamo Ritorniamo Entriamo Usciamo Dal momento che siamo all'interno della tempesta Non perdiamo mai vita In quanto di volta che entriamo all'interno del punto 0 Noi riprendiamo sia vita sia shield Quindi non perdiamo mai vita E possiamo fare tutte le win royale che ci pare Ora va bene Ho lasciato diciamo i tasti E' per questo che sono sceso Però è una cosa ottima Amici miei Spero come la storia di questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando All'interno del negozio oggetti Il supporto è un calore più bello E più fresco Più croccante Del centro Italia Only one Code R4 Iscrivetevi al canale Attivate le campagliate Notifiche Droppate subito Un bel like Furbetto Se ancora non l'avete fatto Mi raccomando Fate anche voi questi glitch Che sicuramente Vi aiuteranno Una cifra All'interno dei vostri game Ora come al solito Vi lascio due video Sopra il vostro schermo Quindi cliccate di qua Oppure di qua Andate a vedere Il video Che ancora non avete visto Noi ci vediamo prestissimo Con tante altre news E L'estra